arriva un camion, dove? in su, e la lascio passare allora, in Bedford, così vediamo dove esce aspetta che voglio dire, io devo andare, adesso lui è entrato, non andare nel fiume, vai su sulla cosa, non andare nel fiume, corre indietro a destra, non vedo, non vedo niente, sto andando alla cerca non vedo niente, sto andando non vedo niente, sto andando non vedo niente, sto andando non vedo niente e